Sono passati 27 anni da quando il guru del marketing Theodore Leavitt, docente alla Harvard Business School, lanciò nel maggio 1983 il termine globalizzazione. Il villaggio globale, teorizzato 15 anni prima da Marshall McLuhan, oggi è divenuto realtà, ma le resistenze all'omogenizzazione dei consumi e dei mercati sono sempre più in ascesa. Professore, allora, perché sia la globalizzazione e perché no la globalizzazione? Dunque, diciamo che negli anni 50 sembrava ormai scontato che il modello della vera cultura, della grande civiltà, fosse l'Occidente. Venivamo da una terribile guerra, ma in fondo era una guerra interna all'Occidente stesso, non c'erano interlocutori. Oggi ci sono molti segni, direi inquietanti anche, di stanchezza e ribellione, non solo alla periferia di questa grande cultura occidentale, ma anche al suo interno. Il professore Gilberto Mazzoleni ha tenuto il 26 aprile la conferenza Globalizzazione sì, globalizzazione no, organizzata dalla Cattedra di Antropologia Culturale della Facoltà Scienza della Formazione dell'Università Roma III. I due decenni di globalizzazione hanno prodotto al tempo stesso integrazione e marginalizzazione. Se una parte dei paesi in vai di sviluppo ha acquisito alti tassi di crescita economica, riducendo povertà e di nutrizione, due miliardi di persone sono finite ai margini del sistema economico e si sono avviate su un drammatico percorso di declino. Secondo lei quindi più la globalizzazione è più marginalizzazione che integrazione? Beh, se dobbiamo dire che la occidentalizzazione dell'America è costata dal 1502 al 1875 330 milioni di morti, forse già questa è una risposta. E cosa risponde allora alle tesi anche degli economisti secondo le quali il commercio porta soltanto che benefici? Il problema è quale commercio, è pilotato da chi e a quali interessi risponde. Se è un commercio per l'uomo e per le popolazioni è un arricchimento. Un fenomeno inarrestabile dunque, ma forse riconducibile verso la direzione in cui le nuove prospettive offerte dalla globalizzazione non siano messe al servizio dei grandi poteri economici, ma possano veramente andare a beneficio di tutti.